E' una festa che assume un valore particolare quella del 2 giugno di quest'anno, una festa della Repubblica segnata dalla nascita del nuovo governo e dalla necessità di riappropriarsi dei valori di libertà, giustizia, uguaglianza e democrazia. Nelle ultime settimane abbiamo anche visto come le istituzioni democratiche del nostro paese abbiano correttamente discusso e il sale della democrazia sta anche nella discussione. Nella meravigliosa cornice del Parco della Biodiversità di Catanzaro, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, anche quest'anno la prefettura ha celebrato il 72esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Lo abbiamo visto dalle parole che ha espresso il nostro Presidente della Repubblica con il messaggio che vi ho letto. Ha un valore, un significato importantissimo, ma chiama tutti, ha una responsabilità comune, evi compresa quella degli organi di stampa, per una buona informazione e per un buon servizio al territorio. Buona festa della Repubblica a tutti noi! Grazie a tutti!